ciao e ben ritrovati sul mio canale allora oggi guardiamo un brano di Ed Sheeran Happier è stata una richiesta di un iscritto al canale a dire il vero questo brano non presenta parti di batteria suonate appunto con batteria acustica più che altro presenta delle parti suonate su un tamburello sicuramente saranno dei synth in cui poi ci saranno dei colpi di cassa insomma c'è qualcosina che possiamo poi adattare se noi la vogliamo suonare con la batteria acustica qui sotto vi ricordo che trovate sempre il pdf guardiamo la struttura insieme è giusto due o tre parti che possono appunto servirvi introduzione prima parte della strofa in cui la batteria non c'è entriamo nella seconda parte e in questo caso nel brano se ascoltate c'è un tamburello diviso in sedicesimi noi portiamo il tutto sul charleston quindi sempre diviso in sedicesimi e accentando il primo colpo di ogni quarto sette ripetizioni dopodiché abbiamo sulla misura successiva solo un accento sul primo quarto e quindi sempre sul charleston dopodiché partiamo con la stessa figura suonata sul charleston con cassa in quattro sette misure così e poi un feel che ci porterà al nostro ritornello feel che vede sempre la cassa in quattro sul secondo ottavo del secondo quarto partiamo in trentaduesimi sul timpano con un bel crescendo che continuerà per tutta la misura ritornello che vede ancora la nostra figura suonata sul charleston e la cassa in quattro dopodiché torniamo alla nostra strofa con la prima parte in cui troviamo solo ed esclusivamente la cassa in quattro seconda parte della strofa invece vede sempre cassa in quattro la nostra figura in sedicesimi sul charleston e sul 2 sul 4 un colpo di rullante in quel caso suonando rullante non suoneremo appunto il colpo sul charleston ma lo sposteremo sul rullante questo perché suonandolo a mani alternate in automatico il colpo sul rullante cade di destra arriviamo al nostro ritornello con lo stesso lancio fatto in precedenza e poi sul ritornello suoneremo la stessa parte che abbiamo suonato sulla seconda parte della strofa quindi cassa in quattro charleston in sedicesimi e sul 2 sul 4 un colpo di rullante è tutto abbastanza semplice ok siccome appunto nel brano non è presente una batteria vera e propria questo ci dà e ci permette di usare un po la nostra creatività e quindi di inventarci di suonarlo un po come può piacere quindi oltre a questi suggerimenti vi consiglio di trovare voi qualcosa e provare a suonare anche per oggi penso di avervi dato appunto qualche spunto se avete altre richieste scrivete nei commenti se vi è piaciuto il video mettete un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto cercherò di pubblicare tanti video tutte le settimane quindi avrete diverso materiale sia per i tutorial sia anche per esercizi che possono essere utili insomma tanto materiale nuovo non mi resta che salutarvi e come sempre augurarvi un buon gru alla prossima ciao 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 ciao